Piccirilli nello staffa tecnico della Scuola Calcio Mirabello, tante le novità anche sotto il punto di vista dello staffa tecnico? All'interno dello staffa tecnico poche novità, molto probabilmente delle novità per quanto riguarda le squadre, nel senso che quasi sicuramente organizzeremo due squadre, sia con gli allievi sia con i giovanissimi che parteciperanno entrambe al campionato regionale, quindi un motivo in più per i ragazzi per prepararli al meglio anche in prospettiva futura, in prospettiva della prossima stagione. Per quanto riguarda invece i ragazzi che andranno a formare la categoria giovanissimi c'è anche qualche novità? Al momento novità non ce ne sono, nel senso che siamo completi a livello di organico, abbiamo un buon organico, poi se qualcuno ha intenzione di venire a potenziare il nostro organico ci fa piacere. Con i 2001 la stessa cosa, con gli allievi stiamo cercando qualche ragazzo per poter potenziare l'organico. La scuola calcio Mirabello riesce a coprire comunque tutte le fasce di età, quindi di conseguenza questo vi agevola forse pure ad allestire le varie formazioni. Sì, diciamo che sono tre anni che prepariamo questa doppia fascia, questa doppia squadra come l'abbiamo preparata due anni fa con gli esordienti e adesso a scalare siamo arrivati fino a giovanissimi gli allievi. L'anno scorso bilancio positivo per i tuoi ragazzi e per te naturalmente al termine del campionato. Ripetersi è difficile però sicuramente non impossibile perché il potenziale c'è. Speriamo di ripeterci e di migliorarci sinceramente perché fermarci per il secondo anno consecutivo in semifinale sarebbe meglio arrivare in finale almeno per i ragazzi, è una cosa positiva per i ragazzi. Per noi sappiamo che stiamo facendo un buon lavoro quindi l'importante non è vincere sul campo, l'importante è vincere come ragazzi come diceva Pasquale ultimamente, Pasquale Garzio è responsabile. La nostra vittente ha seguito sia le finali di Coppe che dei playoff allievi giovanissimi. Abbiamo visto comunque in campo tanta sana competizione da parte dei ragazzi. Sì, sana competizione e soprattutto qualità perché contrariamente a chi dice che in Molise non c'è qualità io sono convinto che in Molise ci sia molta qualità. Il problema è saperla sfruttare, saper cogliere il talento dei ragazzi.